L'Unione Europea ha avviato una procedura per violazione delle regole antitrust sulla concorrenza contro Amazon. Siamo arrivati alla conclusione preliminare che Amazon ha illegalmente abusato della sua posizione dominante come fornitore di servizi per la vendita online in Germania e in Francia, ha spiegato Margaret Westhager, vicepresidente della Commissione Europea, citando i due mercati su cui si sono focalizzate le attenzioni. Le accuse contro Amazon sono due. La prima riguarda il suo doppio ruolo di operatore della piattaforma per gli acquisti online, su cui operano anche altre società, e contemporaneamente di venditore in prima persona. Secondo l'antitrust, le indagini preliminari mostrano che grandi quantitativi di dati non pubblici dei venditori sono disponibili ad Amazon, che può utilizzarli per ricalibrare le offerte e prendere decisioni strategiche, dati come numero di ordini, beni spediti, fatturato. La seconda accusa riguarda l'ipotesi che Amazon favorisca le aziende che usano i suoi servizi di logistica e consegna, in particolare sotto osservazione i criteri con cui vengono scelte le aziende che hanno accesso al buy box, il riquadro in alto a destra che con un clic porta all'acquisto diretto e alle offerte Prime.